uno spicchio d'aglio che vado subito a mettere insieme a un goccio d'olio in questa grande padella vado ora a tagliare un pezzettino di cipolla a fiamma bassa ho fatto a brustolino la pancetta e vado a metterci ora le zucchine e lascio cucinare a fiamma leggermente più vivace per qualche minuto vado a togliere l'aglio e tolgo anche la pasta abbasso la fiamma aggiungo un mestolo di acqua di cottura e faccio continuare a cuocere la pasta insieme alle zucchine alla pancetta la pasta è quasi al dente quindi asciugata l'acqua vado ad aggiungere il pesto aggiungo il parmigiano spengo un'ultima grattatina di parmigiano per finire il piatto una foglia di basilico questo è il mio piatto io vi auguro buon appetito vi invito a provarlo lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale ciao a tutti